Ok, let's go! Lo sapevo! Allora, siamo qui in un nuovo video di assaggi Considerato che la nuova corona dice che c'è il panino nuovo, penso che sia il panino nuovo Potete sbendarvi Allora, il panino senza carne era quello alla vostra destra Ah, ma su, serio? Cavolo, che sorpresa! Questa è una bella figurata È in diretta e quindi ci sta Ho le mani un po' sabbiose, sai cosa c'è? Sale! Cosa c'è sopra? Sabbiose! Farinose! Sì, però è sale! Molto croccante che è questo Non è tanto croccante, però diciamo che... Ci sono i lindichi che cigolano da quanto è croccante Hai la dentiera, Jacopo? Sì, ha l'odore, la famiglia, no? Un po' duretti Un mattone È un gusto strano Sono duri come una roccia Secondo me, se venissero conservati in un ambiente a temperatura ambiente Sarebbero ancora più buoni Perché così sembra dei mattoni I keksici Dalla Stark Industries Sono ordinati come la mia sedia piena di vestiti Guardate Così ve li vendono Eccoci qua Oh! Fanno degli imballaggi di merda in Croazia Non si apre niente È uno sbriciolame continuo quasi Le imballano da cani le cose in Croazia Porco culo Ci sono metà robe distrutte No, sento già che fa un po' schifo No, è buono Posso... Di... No, sto pensando Per questo che... Stai a cannella Lo so, lo so Mi state spruzzando qualcosa che sento Andiamo con il secondo Sono pronta Stai zitta Aspetta, io no Sono da cannuccia del McDonald's E' schifo Fa che male Ma non piace Ah! Ah già? È menta e cannella Ci possono essere due gusti? No, no, solo uno Mentella Quindi? Quindi questo fa cagare No, no, no È tutto tranne pistacchio sta roba No, lo facciamo, scusa Eeeh Ahahahahah Ahahahahah Anna Jacopo No Ahahahahah Aspetta Tè verde Ah, è vero Ah, è vero Orca Il verde c'è Però è il tè verde L'ho saputo Sto a perdire il tè che è bene mia madre Ahahah Che roba è? Sapone Ahahah Beh, non è limone È limone Ragazzi Abbiamo il primo punto È la limone Ahahah 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 Aspetta 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 Marty c'è quello sbagliato Ah, ma dio Ma non c'è tanto ancora così Beh dai la stracciatella c'è il cioccolato Si però anche lì Anche la mente Cioccolato bianco No secondo me è un oreo ai ringo E abbiamo il punto Ed è il cioccolato bianco e al latte quindi comunque cioccolato bianco I ringo negli oreo non ci sono ancora Proda ringo E rimetto dentro Tutto deve mangiare o no? Si Non si buttami al cibo Buonissimo Beh queste sono le pade di Mozart Un uovo con le pade Molto buone Come diceva il mio collega Un uovo con le pade Buonissimo Grazie per avermi rifatti mangiare Ottimo fate i saluti Grazie per aver visto il video Gli starnuti ho capito Fate gli starnuti Grazie Bene fate i saluti Ciao Ciao Grazie a tutti per aver visto il video Lasciate un mi piace E iscrivetevi al canale Ciao 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 Ciao